Signore e signori benvenuti benvenuti per quello che mi hanno guardato ultimamente su youtube lo sanno perfettamente che io le patch notes di tft visto che sto giocando un po' poco non le volevo portare per onestà intellettuale che si per quanto io posso capire le cose come funzionano non mi sembra giusto portarle quando non sto giocando e quindi sono qua accompagnato da zai che vi lascio il link in descrizione così che potete andare a guardarlo visto che lui gioca regolarmente a tft e riesce ad affrontare le maree infinite di sbilanciamento di questo gioco e allora allora partiamo da quello che sono i nuovi campioni che sono leone karma che è proprio il cambiamento più ovvio in assoluto che appare subito in questa patch tratto lunare è un tratto a due persone quindi devi avere sia leone che karma per forza di cose almeno per ora magari poi in futuro esce diana esce a felio chi lo sa ogni 7 secondi il tuo team guadagna il 15 per cento di chance di critico il 15 per cento di danno critico e il 10 per cento di spell power e questo si somma fino a un massimo di 4 volte allora consideriamo che tutta la patch hanno avuto due giorni per testarla perché è uscita il 6 sul pbe la patch e l'8 sul live tipo questo l'hanno cambiato rispetto al pbe sul pbe era un 20 per cento di critical strike chance e damage è buono anche con le percentuali ridotte al 15 per cento perché buono per i due tratti principali di leone karma cioè non sono una non so un ranger un blade master che devi metterli in comp specifiche sono ehi un warden che vuoi praticamente in qualsiasi comp e un mystic che vuoi in qualsiasi comp puoi praticamente metterli in qualsiasi tipo di team ovviamente stanno meglio su quei team che durano tanto i fight quindi uno zed che continua a moltiplicarsi un un accommodo di ranger magari che vuole durare abbastanza del tempo soprattutto considerato quello che è l'effetto di karma e infatti penso che dare un po' anche le abilità in sé per sé aiuti molto a capire che cosa fanno questi due campioni perché se tu guardi sono un warden e un mystic quindi uno che sfrutta bene l'armatura e uno che dà resistenza magica bonus a tutti quanti quindi il loro focus il loro lavoro è quello di buffare e aiutare i propri alleati e come lo fanno questo con leona che è un tier 1 costo 1 molto semplice ed efficace ha come hp 650 1170 e 2106 40 di armatura quindi non dei più resistenti attack damage 50 90 e 162 quindi nella media bassa perché hai l'attack speed che comunque 0.55 quindi il suo lavoro è tankare proprio tranquillamente e infatti mana 50 su 100 quindi molto facile che riesca ad attivare la sua abilità in fretta visto che è un frontliner l'abilità è barriera della luna che riduce tutti i danni subiti di 40 90 o 140 per 5 secondi quindi come sul server live su league of legends attiva la w alza il suo scudo prende meno danno questa abilità è ottima cioè se parliamo di un costo 1 questa abilità è ottima pensiamo a un giocare contro ranger sì contro i ranger è fortissimo sono tanti piccoli danni che va a ridurre e un praticamente i vecchi cavalieri stessa identica cosa quindi ogni singolo hit che prendono viene ridotto viene ridotto di 40 90 è come avere su un champion singolo appunto 4 dei vecchi cavalieri che vanno a ridurre su un ranger ogni singolo auto attack su una spell quella spell di quel particolare danno di 40 90 140 è fortissima per essere unità 1 considerato che poi il dps è anche abbastanza presente su più campioni che magari nel tempo fanno danno vedi l'acqua di nico il danno di tibers nel tempo ci sono più e più modi per cui vai a ridurre danni quindi leona una fraud line veramente molto interessante già di base a prescindere dall'effetto dei lunari poi hai karma subito sotto dopo che è un costo 3 quindi già più già più costoso già più pretenzioso a livello di risorse è un mistico a 3 quindi hai già due mistici a 3 a costo 3 questo è una figata pazzesca perché se ti trovi contro gente che va per tanti danni magici in early magari con un ocean mage in cui hai trovato vladmir e sindra a 2 o 3 stelle molto molto presto avere soraka e karma in early game sei tipo ah perfetto sono a posto mi vivo tranquillo tutto il mio early to early il mio mid game e poi posso scalare in quello di cui ho veramente bisogno e penso che sia molto molto utile e necessario questo inserimento perché i mistici sono una classe molto figa ma che funzionava solo molto bene nel mid to late game ma proprio avanzato adesso puoi trovare magari una karma e una soraka già quando sei livello 5 livello 4 e cominci a vedere personaggi avversari che hanno più danni magici e quindi prendere queste coppie di mistici ti aiuta tanto soprattutto se hai magari un singolo carri dps che è molto grosso e poi una front line o comunque dei supporti che permettono di lavorare meglio che poi karma guardando la sua abilità che è ispirazione all'inizio del combattimento karma si lega al suo alleato più vicino gli dà uno scudo per 5 secondi assorbendo 250 400 800 danni che tanta roba è veramente veramente tanto danno che puoi tancare e finché lo scudo tiene l'alleato riceve 60 70 80 per cento di di velocità di attacco bonus questo allora abilità forte prima di tutto come detto tu hai detto proprio la cosa perfetta il fatto che ti apre prima i mistic di conseguenza prima tu per avere un 2 per di mistic dove per forza trovare gianna che era un epica per avere un 4 per che è comunque un ultimo cioè non è una build che vai a pensare già da subito un 4 per di mistic ma è un tech che puoi fare più avanti per counterare determinate comp avevi bisogno di due leggendarie avevi bisogno di trovare 4 mistic c'erano in game 4 mistic dovevi trovare quindi nami e mastery era difficile ora ti apre a un mondo questo puoi chiuderlo prima puoi chiuderlo già in early game che prima era impossibile perché finché non eri al 5 quindi mediamente post krags non potevi proprio mettere mistic in nessun modo già è forte l'abilità come vi ho detto è molto forte apre determinate comp come per esempio andare a buffare un azir andare a buffare appunto dei ranger e un senna style cosa vuol dire che senna si è sempre buildata in due modi quindi o in osian map con gli item che dovevi perché perché lei partiva già oltando e buffando tutti i champion oppure mettendola una tier perché 75 su 100 mana le metti una tier parte con 95 su 100 un auto attack e fa partire subito lo shield quindi se si gioca karma sicuramente o su osian map oppure dandole una tier per farlo oltare subito quindi già mi piace anche il fatto che abbia un attack speed molto alta che è 07 che per un supporto è veramente veramente alto che ok è un costo 3 quindi anche normale che sia così ma vuol dire che va a attivare la sua abilità molto in fretta molto più della media almeno poi dipende ovviamente da come da come è disposto il resto del team avversario perché se ti trovi uno che ti salta addosso e ha un frozen art che cazzo devi fare può succedere è raro ormai che succeda però con come cambia il mondo e come cambiano poi gli oggetti che vediamo fra poco tutto può succedere esatto infatti si stanno già buildando con shojin e hurricane per esempio alta attack speed shojin continua a darle mana hurricane due bersagli alla volta prendi prendi più del 30% ogni auto attack giustamente perché così puoi continuare a ottenere quell'effetto di continuare a dare scudo ai tuoi alleati al tuo alleato più vicino perché alla fine vai a dare quello scudo al tuo alleato più vicino andiamo a vedere le modifiche agli oggetti che non sono roba da poco considerato tutto perché tanti di questi oggetti o erano totalmente inutili o erano veramente veramente frustranti in certe occasioni ciao tormail non ti vedremo mai più su brom brom sei morto come pica ai miei occhi adesso last whisper che viene fatto con gli sparring gloves e l'arco ricurvo quindi critico e velocità attacco va a sostituire repeating crossbow che era un concetto molto carino il fatto che rimbalzasse da uno all'altro dando velocità attacco e critico non ha mai funzionato bene perché era totalmente casuale il problema è più che tutto che tu vuoi sempre tre oggetti sul tuo carry e su chi è che vuoi attack speed e il critico sul tuo carry quindi se il tuo carry aveva già tre item non avevi modo di dargli questo buff già nuovo che cosa fa i colpi critici vanno a ridurre l'armatura del versaglio del 90 per cento per tre secondi quindi il suo scopo come nel gioco di league of legends è quello di ridurre l'armatura di ignorare parte dell'armatura avversaria in questo caso va a ridurla addirittura ed è un oggetto per i ranger per i tiratori quelli che vogliono andare a abbassare l'armatura potrebbe funzionare anche per gli assassini molto bene penso che sia quello il suo focus principale perché magari un casix che già ha il buff della sabbia poter anche andare a abbassare ulteriormente l'armatura perché questo ti dà modo di andare solo per due due buff della sabbia non avere il quattro buff della sabbia per avere quella penetrazione armatura così pesante che praticamente inutilizzato il quattro per perché come il vecchio ex cioè buonissimo quattro ma sono troppe troppo diverse le sinergie l'una con l'altra non riesce a mettere azir sibir kazix e renekton nello stesso team esatto e questo quasi effettivamente va a compensare sui ranger come detto però ricordiamoci sempre che è scritto sì esatto su chi è che può essere forte sui saberserker la build più forte che c'è al momento saberserker gli fai un infinity edge più un last wispere non so una guardian angel su olaf ogni alto attack lo applica ad aria cioè toglie proprio ad aria l'armatura e i saberserker poi andremo a vedere anche dopo però quella la variante più utilizzata è con kazix al set quindi andando a mettere desert con renekton questo vuol dire che se contro dei warden prendili sciogli totalmente esattamente infatti a me piace un sacco l'idea di fondo perché a questo modo almeno hai dato uno scopo a questo oggetto esatto e come è anche per gli altri è perché anche quello che è il titan resolve che va a sostituire il danzatore fantasma che prima era o molto forte o molto debole dipendentemente dal meta adesso c'è invest arco ricurvo quando chi lo indossa subisce o fa un attacco critico ottiene un 2 per cento di stacking damage bonus quindi fa sempre più danno nel tempo fino al 100 per cento quando tiene 50 stack quando tiene 50 stack ottieni anche 25 di armature resistenza magica e un aumento in stazza che non so cosa dovrebbe servire oltre a essere molto grafico ho provato a chiedere a chiunque hanno detto che per ora è una cosa cosmetica nessuno ha capito se ci sono implicazioni per esempio sulla ulti di malfight sulla ulti di atrox sembrerebbe di no quindi non ho capito magari magari è non lo so penso sia soltanto grafico per dire ok questo sai cosa è il classico indicatore questo al buff pieno probabilmente è per quello che lo indicano lo scrivono proprio per dire ragazzi questo al buff pieno lo vedete perché ha aumentato di stazza si risetta ogni round quindi non è eccezionale questa cosa però è così difficile capire su chi vuoi andarlo a mettere vuoi metterlo su un qualcuno che fa danno vuoi metterlo su un assassino così che fa più danno nel tempo perché hai questo danno bonus esatto è molto complicato come item cioè mi spiego meglio io l'ho giocato sul pbe che era 100 stack e in un intero game non sono mai riuscito a staccarlo alla fine e ci credo l'hanno ridotto a 50 effettivamente perché era impossibile però è stato giocato solo un giorno su live l'ho visto giocare davvero poco secondo me è un item che potrebbe essere molto di nicchia come appunto stavo parlando prima del repeating crossbow cioè inutile sul 90% di champion poi ti esce quello scanner a tre stelle che ha i crystal per esempio e avere quell'armatura senza magica bonus oltre alla velocità d'attacco che ottieni dallo scudo dici può dargli uno scopo eh sì perché comunque ogni stack sono il 2% di danno in più quindi quando arrivi a maxarlo sono il 100% del danno in più esattamente quindi vai a duplicare letteralmente il danno che vai a fare esatto cioè davvero l'unica persona su cui mi viene in mente di usarlo che potrebbe che dici come oggetto difensivo che sfrutta però in maniera efficace è tornare di nuovo su Olaf perché Olaf comunque se vai nel modo in cui vai a etimizzarlo di solito non è che non hai bisogno di oggetto difensivo è che con tutta con tutto quello che è la sua capacità di di rigenerarsi e di continuare ad attaccare sempre più velocemente che di solito vai comunque per un ABT vai comunque per oggetti che gli danno modo di sopravvivere questo bonus lo aiuta tanto molto e poi comunque uno scaling quindi al contrario come la Winso esatto se in un team come i Berserker che comunque dura tanto non è uno splash damage ai Assassin che one shoti subito e i fight durano 5, 6, 10 secondi questo qua alla lunga nei Berserker potrebbe funzionare effettivamente molto bene con la Bramble Vest che fanno la battuta su 2 Chainz non commento invece non commento Bramble Vest nuovo oggetto che va a ripiazzare la Tormail e va a negare il danno bonus dei critici quindi va a sostituire quella che era la nicchia del Phantom Dancer ma cambiando l'identità perché ok va a negare il danno da critico ma quando viene attaccato da un attacco base fai 80, 120, 160 danni magici a tutti i nemici vicini quindi prima ti viene da pensare ah è per proteggere i carry dagli assassini certo puoi usarlo così ma a me viene anche da pensare su una frontline su un warden che va a moltiplicare comunque l'armatura che ha in totale e immaginati essere contro dei tiratori quando sei una frontline con A tutta questa armatura e B che vai a amplificare non dico il tuo danno ma vai a ammorbidire le frontline avversarie facendo questi danni magici ad area attorno a te infatti il concept secondo me è più su quello piuttosto che andarla a mettere perché questo qua guardiamo cioè vediamo come è un misto tra una Phantom Dancer e una Tormail entrambi rimossi la Phantom Dancer potevi anche metterlo sulla backline appunto per difendere dagli assassini mentre la Tormail era una cosa abbastanza esclusiva perché era esclusiva perché appunto andando a riflettere i danni pre-mitigazione quindi cosa vuol dire che tipo Brom prendeva 2000 danni mitigava a 50 danni ma ne restituiva 2000 ok questa cosa appunto era molto di nicchia e si andava a buildare praticamente solo su Brom o su Leona se ci fosse stata Leona con la Tormail ora probabilmente un item da tank ma molto più generale quindi dubito che si vedrà sui sui carry al massimo magari su una Nami per esempio che si può usare come bait quindi la metti nell'angolo in modo che se gli assassini le saltano addosso le riesce a stallare abbastanza ed è interessante questa nuova meccanica che stacca con i livelli con le stelle del del champion che è una cosa che fanno su altri oggetti esatto sì e mi piace molto quello perché va proprio a dire ok se devi investire questo oggetto che è un oggetto forte mettilo sul personaggio forte esatto cioè non è più dipendente l'oggetto è forte di per sé è l'oggetto è forte dipendentemente da chi lo metti sopra che vai quindi a rincarare la dose sul pensa bene a dove cazzo mettere gli oggetti non metterli a caso che spesso e volentieri vedevi anche in questo in questo set 2 meno importanza su a chi dare gli oggetti e più importanza sbatti gli oggetti addosso ai personaggi così che sono più forti a prescindere che è una cosa che non mi è mai piaciuta personalmente perché non è né giusto né sbagliato è solo uno stile di gioco che non ti fa pensare sei tipo ok posso farlo e poi essere premiato perché ho una win streak e quindi continuare a mantenere vantaggio monetario sugli altri ma non non è una scelta non lo so è una non scelta per me fare una cosa del genere questo è vero e oltretutto c'è anche il fatto che nel set 1 non sono mai andati a buffare item ma li hanno sempre nerfati questo è quindi una cosa che ci portiamo dal set 1 che gli item hanno sempre perso priorità c'è nel set 1 c'erano oggetti come il giant slayer true damage subita massima del target eccetera dovevi buildarlo ora non ci sono oggetti core di conseguenza esattamente quello che stavi dicendo tu non c'è una vera pensata su che cosa fare dietro c'è sul a meno che non hai la spatola sia chiaro perché gli oggetti legati alla spatola sono sempre fortissimi e quando hai una spatola cambia tutto il tuo stile di gioco attorno all'oggetto da spatola sia ben chiaro prima che veniamo parintesi dobbio ok frozen art mini rework la velocità attacco prima era velocità attacco sui nemici vicini veniva ridotta il 25% la velocità attacco sui nemici vicini è ridotta il 40% e sommare insieme frozen art aumenta semplicemente la gittata dell'effetto frozen art ma non il rallentamento questo per il 99% dei casi questo è un buff netto sì è un buff netto anche perché non si giocava più il frozen art il doppio frozen art poi quindi il cavolo lo buildava cosa hanno voluto fare però hanno detto noi lo buffiamo esatto è un buff flat ma allo stesso tempo non vogliamo far tornare quelle build con tre frozen art sugli assassin che arrivano ti jumpano sulla backline e i tuoi scarri stanno fermi secondo me è molto interessante il nuovo frozen art potranno uscire delle build come per esempio non so un singed o singed che dir se voglio anche se però non lui non sfrutta bene il mana però pensiamo a lui che corre in mezzo a tutto il team nemico e gliene metti tre addosso ai tre ex di range sì praticamente quasi sempre esatto praticamente per tutto il tempo tranne quando è sul tuo lato della board cioè all'inizio e quando rimbalza tra virgolette indietro perché alla fine lui va in giro come il pong rimbalza sui bordi della board e torna e torna va in quella direzione esatto carino e frozen art mi piace come l'abbiano mini reworkato anche l'iceborn gauntlet che era estremamente frustrante perché non potevi farci nulla cioè se ti succedeva bene se non ti succedeva amen ma essere dal lato di chi lo subiva l'effetto dell'iceborn gauntlet era molto noioso che i nemici dentro la zona ghiacciata avevano la velocità d'attacco di 8 e 25% eri tipo ok e io cosa dovrei fare contro sta cosa è totalmente casuale se lui dodgia l'attacco dodgia l'attacco non è che ho scelta da questo questo qua invece è più intelligente perché dici dopo aver castato una spell l'attacco base di chi lo indossa congela l'avversario per un secondo e mezzo sì allora parliamo un attimo del vecchio esborn gauntlet era diventato meno opprimente da quando ne ho rivolgato la phantom dancer che non schivava più i colpi restava però una cosa troppo forte se per esempio pensi a una mappa cloud dove la cloud tile era al centro della mappa in front line dovevi andare per forza a discrudere build come blade master come ranger perché ovviamente il personaggio al centro era quello che prendeva più colpi tu mettevi lui al centro con l'iceborg gauntlet sul dodge tutti gli altri tank dietro ti congelava la mappa in un secondo era molto antifan da giocarci contro questo nuovo invece è un oggetto di nicchia non è un qualcosa che vuoi andare a buildare in tante build ma se pensiamo a un Ezra con 30 mana una Kindred con 35 di mana un Kha'Zix con 40 di mana con una Seraph usciranno secondo me molte build per esempio un Ezreal Seraph più iceberg gauntlet Kindred più Seraph interessante molto interessante questo mi piace l'idea su Kindred su Ezreal che è già che è già ghiacciato non lo so mi sa di cacofonico esatto però Ezreal oltretutto va ad attaccare sempre quello con meno vita vero quindi infatti è più una cosa da Kindred effettivamente Ionic Spark anche se è reworkata non fa più 90 danni puri a qualsivogli nemico che casta una spell ma solo ha i nemici che sono all'interno di un raggio di tre caselle ed è per il 200% del mana massimo del suo avversario ed è danno magico non è danno puro quindi puoi andarlo a mitigare con i mistici puoi andare a mitigarlo con il dente di drago se vuoi fare i denti di drago per questo non sarebbe molto intelligente però ognuno al suo il 200% del mana massimo ok è grosso quando vai a pensare campioni 150 di mana esatto quando vai a pensare a campioni che hanno costi mana molto alti ma quando sei contro campioni che spammano è veramente veramente poco per quanto sia il 200% del loro mana quindi vuol dire il 100% del loro mana massimo sarebbe la totalità del loro mana di mana il 200% è due volte quindi su un Malzar 300 danni magici che gli arrivano così di colpo se è agittata non è per niente male come hai detto tu magari come hai citato adesso Ezra l'hai citato Kindred sei tipo ok ha preso 70 danni 80 si però non va a sbilanciare prima una Kindred avevi quasi paura mi ricordo quando la Ionica era poi in meta a buildare la sera perché dicevi ehi più ulta più mi one shot ora invece più bilanciato specialmente per il fatto degli ex quindi su chi lo metti su una front line per andare appunto a fare danno sui tank che di solito hanno alti costi di mana pensiamo a Namumu pensiamo a Antaric pensiamo a qualsiasi cosa lo metto su un assassin che salta in back line per andare a shottare i carry però appunto i carry di solito hanno bassi costi di mana qua sarà cioè sarà bello cercare di capire su chi è più su chi ne valga di più la pena è interessante secondo me molto assolutamente d'accordo con la Quicksilver che invece prima ottenevi uno scudo che preveniva il prossimo crowd control e questo scudo si riflessiava ogni tre secondi adesso è ok sei sempre immune ai controlli è forte è passato dal è passato dall'essere l'oggetto meme ancora più della repeating crossbow ad essere l'oggetto più forte del gioco praticamente hai una ulti di Olaf già dall'inizio e bisogna ricordare che qua parla appunto di crowd control ma al momento nel gioco tutte quelle cose tipo che vengono provocate dagli oggetti quindi disarm dallo swordbreaker il silence dal hash vengono tutti considerati crowd control quindi tu lo metti per esempio su un amumu e non devi preoccuparti e io contro i blade master con tre hash su seivir il mio amumu il mio taric non ulterà mai io lo metti hai la ulti praticamente assicurata non può essere targettato da un malphite un nautilus qualsiasi cosa fortissimo è veramente veramente forte poco da dire davvero con il locket invece che parlavamo prima degli scaling sul livello stelle dei singoli campioni lo scudo adesso scala da 250 a 275 a 300 che dura sempre 8 secondi lo scudo e scala con il livello del livello stella del singolo campione che vai sul quale vai a metterlo è interessante perché sembrano solo 50 danni meno ma se pensiamo che poi sono su 5 champion vuol dire che sono 250 esatto esatto infatti secondo me ok capisco l'idea di mettergli uno scaling per provare a bilanciarlo può non so adesso quanto sia forte il locket of the iron solari eccetto molto perché stanno giocando i berserker ah ok con i berserker si è vero se così i berserker e quindi lo splash lo togli almeno i primi splash li togli ci sta no no ma anche quando giochi i berserker tutto l'early game si basa sull'avere locket stack perché è una comp che va molto in mid game quindi vuol rimanere il più alto possibile in hp di conseguenza buildi due anche tre locket sul tuo volivir in caso in modo perché tanto tutti i berserker li metti poi in backline distesi su una linea unica come gli assassin esatto e quindi sfruttano benissimo il locket chiaro ci puoi che siano a dire sì capito capito ecco diludere anche esso va a scalare non fa più 150 danni magici flat che questo lo rendeva molto un oggetto da early game ma va da 120 a 160 a 200 danni magici dipendentemente dal livello stella del campione e io sto pensando a sindra e vladimir come sono felici di avere questa cosa esatto io ho pensato non ho ancora testato ho pensato a una possibile build probabilmente non funzionerà mai ma hyper roll per esempio mage ocean dove vai a magari hyper rollare sindra vladimir talia stack di ludens sì fortissimo il discorso è lo stesso tra ludens e static c'è sempre un problema che esistono i mystic ora quindi sono sempre magic damage esistono i mystic vai a ridurre di tanto è un oggetto che a prescindere sembra che scali comunque male possiamo già parlare anche della static perché sono appunto lo stesso concept la static gli hanno anche addirittura nerfati danni sì quindi sì puoi buildarlo però le implicazioni sono davvero poche quello su cui possono essere forti sono per esempio sui predator perché? perché kogmo 3 lo fai sempre è la base dei predator è quello che vuoi a 3 stelle ancora di più di reksai e skarner e su di lui si giocano due build ludens o static build perché appunto il ludens lo splash damage va a brucare l'execute sotto il 25% di vita esattamente infatti vedendo lo static subito dopo stavo pensando già a kogmo e infatti anche con l'eco di luden puoi fare lo stesso identico discorso che lo static per chi visto che stavamo parlando di questo invece di fare 100 danni magici ne fa 80 ma dipendentemente dal livello stella del campione sulla quale è messo fa danni a 3 4 o 5 nemici dipendentemente dal livello quindi carino di nuovo mi viene come hai detto tu l'esempio di kogmo è perfetto è proprio su di lui nessun altro punto però è un punto magari per avere un po' di danno magico sui ranger giusto perché visto che hai tanto danno fisico e potrebbe essere gestito ai warden e dici ok potresti inserirlo come quel queen di in più ma non è esatto non è una priorità è un c'ho stile oggetti posso farlo quello su cui si build c'è la static si builda su Ash perché lei fa poco danno con alta attack speed il problema è che andrei mai a fare un'epica a livello 3 c'è un'epica a 3 stelle è abbastanza difficile è abbastanza raro sì con poi l'Ash che parlavamo prima del silenziamento la chance di proccare scende da 25-20% quindi tutti contenti di questa cosa il silenziamento non è mai divertente da giocarci contro Red Buff e Morellonomicon la bruciatura invece di essere 20% su 10 secondi è 18% su 10 secondi quindi leggero nerf a livello di danno generale considerato quello che era la sua potenzialità totale ci può stare per chi si chiedesse perché Red Buff è stato nerfato semplicemente per chiarezza di gameplay quindi non vogliono tenere due item che fanno la stessa cosa uno che toglie il 20% l'altro 18% per coerenza una vera che Red Buff era forte però sì semplicemente vogliono avere un po' di coerenza tra i due oggetti così che sanno questo è l'oggetto fatto apposta per fare danno nel tempo e ferite gravi basta serve a questo questo è il modo che funziona fine allora siamo arrivati ai tratti tratti che vanno un po' anche a modificarsi tra di loro sono pochi quelli che cambiano però è anche abbastanza interessante come li cambiano l'eltregen dei druidi che sale da 40 a 45 non la cosa più di impatto del gioco ma buono per l'early game esatto adesso stiamo guardando i tratti dopo andremo a vedere i champion andremo dopo a vedere in relazione ai buff che hanno fatto i champion come potrebbero andare a modificare c'è anche da pensare che però i druidi sono stati giocati fino alla patch prima con la strategia della Chinese roll che sarebbe rimanendo sempre a livello 5 rirolando sopra i 50 gold quindi non ho strategia per fare tutti i champion al 3 si è smesso di fare ma ora con i buff che hanno fatto appunto con gli item che abbiamo visto che a 3 stelle sono così forti cioè così forti su determinati champion quindi l'Uden Seco potrebbe workare bene per esempio su un Aleblanc una Static Sheep o comunque su un un Ivern a 3 stelle per esempio potrebbe essere d'impatto questo 5 di di l3 gen che durante il mid del late game lo senti di meno ma durante gli early game si riesce ad andare a chiudere un 3 pair di druidi con Mokai Niko e Ivern schifo non fa diciamo assolutamente più che altro guardo il tratto sotto e penso sì quello dei druidi è un buff carino poi guardo attack speed bonus dei light da 15 25 a 35 a 15 35 55 da quello prima ne avevi bisogno di 9 adesso bastano 6 esatto c'è 9 light l'exodia comp perché c'è tra virgolette perché ti serve lux light ti servono spatole più più negatron e ti serve il livello 9 se non trovi lux o il livello 8 se appunto trovi lux e le spatole è già impossibile da ottenere prima arrivavi a 9 light e dicevi ehi ho il 35% attack speed ora ce l'hai a 6 già è molto più facile attenere questo è il problema come si è potuto notare dopo un giorno di patch il problema con i bilanciamenti è sempre lo stesso quando bilanciano tft non bilanciano le cose a piccoli passi ma overbuffano qualcosa overnerfano qualcosa di conseguenza il meta potrebbe diventare monocomp perché ora tu dici wow questo buffa il light poi a vedere ehi buffa Vayne buffa Jax buff ad Atrox e tu sei tipo è ok per quale motivo hai fatto tutti questi buff in combo è qualcosa che sai cosa succedeva spesso su League of Legends ogni volta in cui tipo magari all'inizio nerfavano un oggetto che era veramente forte su uno specifico campione e poi nerfavano anche il campione perché dicevano eh ma era così forte perché aveva questo oggetto e quindi si creava questo doppio nerf uno di fila all'altro che lo rendeva così debole poi e poi lo lasciavano lì per tipo un anno a marcire eh cioè si parla anche di campioni come i campioni importanti come Diana che per un periodo era fortissima poi pam di colpo si ritrova totalmente totalmente senza significato l'hanno dovuta soft reworkare nell'ultima patch per quanto era messa male e così tanti altri campioni eh tipo ad esempio Aurelion Sol che prima era bilanciatissimo sul GLP 800 che era un oggetto che era fatto col Catalyst e poi l'hanno cambiato e hanno messo e hanno messo soltanto mana e non vita cosa di cui lui invece aveva bisogno e hanno dovuto totalmente cambiare anche lui è proprio sembra è l'inesperienza sembra questa esatto penso che secondo me su TFT nel tempo poi impareranno che devono andare a passi calmi perché una volta una volta lo facevano andavano a passi calmi perché c'era una patch ogni settimana e quindi potevano fare un piccolo passo una settimana la settimana dopo facevano un altro piccolo passo e infatti il set 1 era ironicamente più bilanciato sotto questo punto di vista assolutamente sì perché era ogni settimana che c'era un aggiornamento sul ok ci rendiamo conto che questo era sbagliato lo correggiamo subito non aspettiamo due settimane per correggerlo secondo me è una questione di tempi cioè col tempo impareranno esatto però per ora nel mentre esatto nel mentre l'orco 2 quando il meta e ce l'abbiamo sempre detto il gioco non è RNG la skill viene premiata al 100% su TFT nell'istante in cui un meta monocomp lì diventa RNG perché diventa RNG perché il primo se su 8 persone la fanno il primo che la chiude vince chiaro e quindi è poco diciamo un po' anelti è un po' poco salutare per il meta avere una sola comp speriamo che questi buff non si riveleranno degli over buff ma faranno tornare in vita light perché rispetto alla prima patch ti ricordi li hanno reworkati sui HP e quindi da lì stanno cercando di buffarli 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 ogni patch adesso hanno dato 4 buff insieme speriamo vediamo anche col fatto che gli ocean adesso a 2 sono molto più deboli perché scendere da 15 a 10 mana ad ogni team dei 2 ocean non è proprio il top del top e si potrebbe pensare che alla fine c'è un nerf da poco perché di solito vai a giocare 4 ocean però i 2 ocean erano un tech interessante che andavi semplicemente avendo il warden con nautilus e trash spesso li andavi a preferire loro come frontline prima di avere ovviamente eventuali amumu tarik cose molto molto forti e di conseguenza quell'ossian in più cioè quel 15 di mana ogni 4 secondi esatto non era un qualcosa che era core per la comp ma ti andava ad aiutare esatto come dici tu quindi buon nerf in realtà secondo me ho sempre paura per lo stesso che stavo facendo un minuto fa quando vai a overbuffare una comp e vai a nerfare l'opposto quella che la va a canterare è perché questo per esempio questo nerf non va a toccare minimamente light i druidi non va a toccare minimamente light i shadow non vanno a toccare minimamente light si vedrà col tempo parlando di shadow infatti avveniamo un aumento di 5 10% rispettivamente dipendentemente da quale tratto tieni se quello iniziale o quello finale decidi shadow non male se a 3 o a 6 non è male non è male qua c'è da analizzare un minimo di più per un semplice fatto che tu se vuoi andare a 6 shadow sono molto forti ma non vuoi giocare veigar perché è inutile specialmente perché se la sua ulti quando sei contro summoner se un malzer ti mette 5 minion tu non vuoi andare cioè non vuoi che il tuo veigar one shot ti un minion quindi vuoi per forza giocare lux qual è il problema che lux con 6 shadow è buggata lux con 6 shadow ogni tanto non le applica il buff shadow di conseguenza vai di conseguenza vai a giocare 6 shadow devi giocare per forza lux ma lux poi non ha un'effettiva utilità perché non fa danno quindi è tipo sarebbe bello se funzionasse tutto finché non fixano lux e finché non fixano kindred che continua ad avere i suoi soliti bug prima non faceva danno a chiave alla phantom dancer ora se le build infinity edge più spell crit che è una delle c'è delle build più forti che c'è si bugga la percentuale di critico su di lei gli shadow sono sempre un se non è bugato funziona bene assurdo assurdo veramente assurdo dai che magari con la versione mobile cambia tutto bilanciamento dei campioni e qua parlavamo di come quell'effetto dei light dice ok un po' di attack speed in più schifo non gli fa ma poi vedi vain con 50 hp in più che ottiene l'1% ad ogni singolo livello della sua abilità quindi è vita massima percentuale è un 1% di più su ogni singolo livello di vain molto buono considerato che ogni volta cioè noi vediamo 1% ma poi pensi ok quante volte riesci a applicarlo dipende da quanto sopravvive gli hai appena dato modo di sopravvivere per più tempo 1 e gli hai dato più attack speed dall'effetto dei light quindi quell'1% diventa poi 2 poi 3 poi 4 poi 5 dipendentemente da quanto sopravvive vain e non va sottorotato esatto precisamente warwick costo in mana ridotto di 25 di base con mana iniziale rimasta a 50 e l'abilità fa 50 danni in più al secondo rank e 100 danni in più al terzo rank non male se riesci a arrivare a warwick così alto sì però se giochi predator giochi sempre kogmo scarner che ti apre la possibilità di giocare crystal ed è forte comunità e rexai che ti apre a giocare sì poison con kogmo ovviamente e poi invece con rexai hai comunque steel che per due secondi il tuo c'è la tua rexai o il tuo nocturne sono invulnerabili sì 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 warwick è proprio sbagliato tra virgolette il concept cioè è un predator glacial se giochi predator non giochi lui se giochi glacial non giochi lui per farlo giocare dovrebbero dargli un bel buff e questo non è abbastanza purtroppo è un aiutino per provare a usarlo un po' più spesso come riempitivo mentre stai cercando qualcos'altro come hai sottolineato tu perché di soluzioni alternative a warwick ce ne sono e sono tante tier 2 jax eccola anche lui 50 hp in più e quei 5 di attack damage mi fa paura in ottica dell'attack speed che ottiene sì e fa anche paura pensare comunque in saber circle saber circle ho getto varie volte compi meta tu vai a buffare jax perché vuoi buffare light non pensi alle implicazioni che potrebbero avere quel jax sui saber circle poi non è jax che è la star della comp non è quello che vai a sicuramente topaggiare ma vai ancora a dare esatto aiuta a dare un piccolo buff sono quelle spintarelle qui e lì che aiutano non poco poi ad esempio anche qua vediamo un buff agli shadow e vedi un buff a malzar ai minion nell'attack damage che ottengono sono 10 ad ogni singolo livello che uno dice ok finché sono un paio di minion non è un problema poi quando consideri tanti minion che appaiono di colpo sulla landa e dici porca troia porca puttana sulla board hai 5 minion che hanno ottenuto 10 di add in più vuol dire che ognuno attacca e fa 10 danni in più oh sono 50 danni per considerato il dps dei minion non è roba da poco aggiunti poi quel 5% in più adesso dagli shadow not bad nel totale qua dice nico total mana da 80 a 60 è una mana iniziale no 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 proprio il total mana cioè 60 di mana all'inizio con 0 su 60 invece che 0 su 80 ah ok e perché esatto allora nico è sicuramente un po' sotto gli altri champion ma ripetiamo di nuovo vai a baffare druid vai a baffare nico vai a baffare gli item sulle tre stelle sì ok soprattutto l'eco di luden che lei lo usa molto bene esatto fa paura fa un po' paura e quindi si vedrà probabilmente appunto siccome i light scalano così bene con il tempo cioè durante il fight non vuoi giocare una comp druidi che appunto la vai a tirare per le lunghe quindi se appunto ci andranno i light in meta non si giocheranno build druid in late game come la cenistra di cui parlavo prima però durante l'early game gli dai quell'aggiunta in più già quel 5 di vita in più li rendono immortali early game così hai ancora più danno con una nico sì poi procediamo con senna che l'alleato fa ogni volta che viene baffato da senna l'alleato fa danni in più quindi hai 10 e 10 danni in più al secondo e terzo rank di senna almeno sei un po' invogliato a portare senna a un livello superiore sì non che sia non che sia il campione opprimente della patch però di sicuro non ti fa schifo si stanno tenendo bassi sui numeri cioè sono 10 10 danni e se non sembrano bassi ma l'avrebbero voluto baffare ancora un pochino di più qual è il problema patch appena uscita senna senna è diventata la senna build è diventata la migliore build quindi come si giocava 4 ranger in backline senna che baffava tutti vogliono tenerla sotto controllo tornando al discorso principale vai a baffare senna quando hai baffato sei light comp meta sei light soulbound con Lucian Curry e torniamo sempre al stesso discorso porca troia ragazzi se fate uno non fate l'altro e questo questo non è ancora il buff peggiore perché poi vedremo dopo alle tier 3 althrox e lì chiuderemo il discorso là comunque buon buff se pensiamo in ottica di vogliamo far tornare i ranger i ranger però anche con l'introduzione di Leona disse se tu vuoi fare un hash carry su Leona fai 0 danni quindi dubito che i ranger andranno in meta ci stanno provando per quello vogliono baffare senna speriamo speriamo che ci sia un po' più di variazione con questo cambiamento mi sono avanti con Scarner bonus attack speed che sale da 30 a 50 a rank 1 da 65 a 75 a rank 2 a 3 stelle è invariato ma è veramente forte comunque come considerato che Scarner è cristallo ricordiamolo bene pensa questo buff con la titans resolve di cui vi ho parlato prima con gli stacco ogni volta che critta con l'iceborg gambe esatto e prima ti portavi un'unità cioè questo buff in realtà mi piace mi piace perché prima se volevi giocare predator ti portavi un'unità inutile non è inutile nel senso faceva il suo lavoro di tank ma non ti dava quel qualcosa in più che ti vogliava voler giocare veramente i predator perché appunto tu ti portavi delle unità buone come kogmo e magari rexai e Scarner era lì un po' un peso morto meno di warwick però sempre lì finché non lo facevi a tre stelle ora anche prima di chiuderlo ti può dare quella mano non perdere così tanto l'early game fino a quando non vai a chiudere la tua comp secondo me è un buon buff questo ne aveva bisogno considerato quello che era in generale la statata di predator che non sono mai messi male e che hai difficoltà a farli scalare e anche uno dei problemi di questo set è sempre stato flexare da una compa a un'altra al volo ed era molto dovuto al fatto che tanto del potere derivava dall'essere a due a tre stelle e almeno adesso hai un motivo per poter cominciare a flexare e dici ok magari ho trovato due copie di Scarner non trovo la terza per farlo a due stelle ma già così non è messo così male già così non è così debole i predator vanno molto in base al meta in senso per esempio due patch fa era il meta della level 8 rush quindi il primo che arrivava a livello 8 cosa vuol dire che in mid game nessuno rerollava per tenersi gold per livellare il prima possibile tu facevi predator snowballavi l'early to mid game quindi toglievi tanti tanti HP in mid game era una comp solida top 4 poteva fare top 1 perché era solida top 4 perché appunto tu vincevi tutti i fight in mid game quando gli altri erano ok sia a livello 8 ma a 40 HP tu eri a livello 6 7 ma a 90 qual è il problema ora che appunto con i berserker i berserker sono fatti appunto per specare in mid game infatti in questo momento preciso i predator li fai proprio solo se prima dei kraugs hai 7 kogmo una cosa del genere proprio devi essere davvero avanti per fare una top 4 con i predator per com'è la velocità del game chiaro quindi questo può aiutarli ci sta mana totale di sindra invece scende da 80 a 65 quindi anche lei è ben felice dell'eco di luden e della possibilità di cioè stanno proprio spingendo alcuni campioni per dire questi sono campioni che se gli dai oggetti dell'early game ti snowballano l'early game per portare per carriarti nel mid game così che hai l'economia necessaria per poi swappare su qualcos'altro che poi certo sono scelte su come vuoi swapparlo ma almeno puoi puntare su questa tipologia di comp almeno hai più scelte infatti cioè ok noi parliamo del fatto che light e shadow sono stati baffati e vengono poi baffati anche a livello di campioni e gli osha sono stati nerfati ma poi penso che gli oggetti in sé per sé di quelli sopra che ne abbiamo parlato tanto andranno a sbilanciare un po' il tutto e penso ci vorrà un po' per capire bene 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 quali sono i punti di forza e debolezza dei campioni perché non sono modifiche da poco quelle degli oggetti no 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 c'è anche da pensare che prima adesso c'è una build che gira intorno a Lux quindi appunto sempre level 8 rush devi avere però un early game stabile qualcuno su cui mettere gli oggetti di Lux quindi un eventuale shojin rabaddon cose del genere se prima pensavi magari a giocare Talia perché era la migliore opzione che avevi ora puoi anche pensare a mettere Syndra gli item su Syndra tanto poi in late game li vai a togliere perché come 4 se hanno giochi sicuramente Nautilus Trash e Nami e poi vai a giungere o Vladimir o Syndra semplicemente vai a togliere Syndra in late game ti tieni Vladimir quindi puoi usarla come play soldier funziona bene funziona meglio di prima da 85-65 mana sono più ulti che spam non male e può double castarlo ricordiamo essendo mage se vai a prendere anche l'effetto di mage non è qualcosa da sottovalutare quello l'unica cosa che hanno voluto non portarla a 60 di mana ma a 65 perché? perché le unità tier 2 guadagnano 10 di mana ogni auto attack e soprattutto adesso gli osian danno 10 quindi avranno fatto dei calcoli in modo che 60 la rendeva troppo forte 65 ci vuole quell'auto attack in più esatto perfetto mi piace è un'idea molto intelligente secondo me sì poi c'è questo buff che è full random Varus a 3 stelle dico ok 125 danni in più sulla freccia non ti fanno schifo ma quante volte succede che vai Varus a 3 stelle e lo buildi basato sull'ability power perché dici ok 800 danni sono belli 800 danni con l'ability power necessari per buffarlo sono belli perché così un po' tipo è un buff molto random questo come hai detto c'è poco da dire l'hanno messo lì hanno detto è un qualcosa in più se lo fate sempre per i ranger dici ok se andando di multi ranger l'hai portato al 3 perché ti è andata bene e nessuno sta facendo ranger dici ok almeno hai questo tier 3 parlavamo prima di luce parlavamo prima di atrox 100 hp in più e dici è già è già qua partiamo male perché campione corpo a corpo che prende hp in più così dal nulla non è mai bello poi guardi l'ability damage 50 danni in early ok voglio aiutarlo un pochino in early 100 danni nel mid game ok voglio aiutarlo a 2 stelle 1200 danni in late a 3 stelle e dici parca troia perché gli hai dato 200 danni gratis e riesci a farlo a 3 stelle allora c'è tanto sbagliato in questa cosa tu prendi un nautilus e dici prendiamo un'altra tier 3 nautilus è un tank a 850 hp ok atrox non è un tank perché dagli questi hp 100 hp in più 800 hp su un'unità del genere sono tanti per i danni che fa e ora riassumendo con i buff agli hp di jax e a quelli di vain dobbiamo ricordarci che ogni volta che un'unità muore dà il 25% della sua vita massima a tutti gli alleati ok quindi prima quando jax moriva dava il 25% 700 a tutti atrox il 25% i 700 a tutti ora sono hp in più che vai a dare quando atrox muore dà più hp alla tua vein al tuo yoric quando jax muore stessa cosa è pericoloso buffare gli hp sui light quando fai delle cose del genere e sono andati proprio full su 100 hp in più rischioso molto rischioso punto che poi in tutto ciò devi considerare ok lui ha hp in più e quando muore buffa i propri alleati ma avere più tempo anche per poter lanciare la sua abilità che ha appena avuto un buff non è roba da poco scelta strana rimaniamo sempre dell'opinione di buffare due volte una categoria di campioni non è mai saggio e si è visto in passato com'è andata azir 25 danni in più al primo livello al secondo livello e poi 75 danni in più al terzo livello ne vale finalmente la pena chasare diciamo un 3 stelle azir sul pb hanno provato a mettere 550 danni a 3 stelle era op era un po' più troppo perché op non per azir in sé anche per azir in sé ma perché pensiamo a giocarla con karma porca puttana quindi dai karma goccia ecco così ci sta è un buon buff se fai azir 3 stelle può essere una comp da top 1 si giocherà per esempio esatto si giocherà come per esempio non so io se la devo pensare penso a un azir con mystic sicuramente e warden sicuramente perché vai a giocare karma al 100% quindi leona puoi andare a fittarla con un 3x di summoner con un 3x di light giocando appunto yorik di stand alone e soraka come altro mystic e metti lui light è bello perché è molto non è una build fissa secondo me poi ovviamente si sceglierà una build quella più forte fare nei vari test però per ora è molto variabile è un buon buff azir prima lo facevi a 3 stelle ed era tipo ehi è un 2 stelle ora ci sta buono così poi per tutti i fan della blender comp mi dispiace per voi ragazzi perché non solo nocturne perde .05 di attack speed e 5 di attack damage ma qua in alto viene fatto notare come ci sia un bug fix al fatto che nocturne facesse il doppio del danno sull'autoattacco quando spinnava rip anche il doppio della cura di conseguenza e la cosa più brutta cioè più brutta in caso più OP era il fatto che quel 2x poteva anche andare a proccare blade master quindi lui aveva il doppio di cura il doppio di danno e il doppio di possibilità di proccare blade master marca puttana se ti proccava blade master sono 3 autoattacco su nocturne con doppio infinity edge di solito schifo non faceva ed è stato divertente vedere come già solo in un giorno questo nerf non abbia cambiato nulla all'attack speed dell'attack damage blender era ancora la star della patch dopo questo nerf cioè nerf in senso bug fix nerf gg proprio scomparso sì ho visto nocturne 3 stelle con build completa fare ottavo posto assurdo così sì andiamo avanti con kiana invece che riceve un buff a quello che è il suo danno a 3 stelle di 200 danni in più ma riceve un nerf su quello che è la durata del suo stun di mezzo secondo ad ogni singolo livello dell'abilità che sia 1 2 o 3 stelle mezzo secondo in meno non abbastanza mi spiego meglio un grosso stun quello di kiana esatto quello che ha detto proprio colui che ha fatto i nerf è stato vogliamo ottenere kiana come premium unit cosa vuol dire è un unit cioè è un set basato sugli elementi lei varia in base agli elementi deve essere la nostra star insieme a lux di conseguenza vogliamo che sia una delle tier 3 più forti questo perché anche perché in base alla mappa devi giocare in modi diversi quindi il concept di per sé ci sta in senso è forte ma non la puoi giocare sempre il problema viene quando kiana è così forte che tu stai giocando ranger e butti kiana dentro stai giocando mage e butti kiana dentro a prescindere da quello che è perché è troppo forte di stand alone quindi il loro discorso ci sta se non fosse così forte kiana un minimo di nerf ancora in più ci sarebbe dovuto stare però penso che come dicono loro la premiano soltanto perché è un set basato sugli elementi esatto e quindi giustamente dice ok teniamo kiana un pochino più forte va buo glielo concediamo tra virgolette esatto sivir durata dell'abilità che scende da 7 a 5 secondi considerato il suo dps considerato che sivir blade master insieme a nocturne veniva utilizzato ma era nocturne la stella non so perché questo nerf sincero questo nerf perché volevano andare a rendere bilanciata i blender la blender build e era un nerf in realtà più o meno necessario se vai a considerare solo i due nerf che erano nocturne all'attack speed e all'attack damage ora con il bug fix che hanno fatto appunto come stavo dicendo blender è praticamente morta quindi con questo nerf ancora di più con il nerf a a lash ciaone esatto precisamente ciaona ciaone alla povera sivir arriviamo ai tier 4 siamo quasi arrivati alla fine ragazzi un video un po' più lungo del solito ma fateci sapere poi se vi piace questa tipologia di analisi bella approfondita bella cicciona che ci permette di sliscerare il tutto tier 4 enny tibers attack damage 150 300 1000 che scende a 125 in early buono sale a 350 a 2 stelle ok e a 1500 quando arrivi a enny 3 stelle cosa che enny a 3 stelle è abbastanza raro quindi ok se ci riesci sei fortissimo però uno straight up perché loro hanno detto vogliamo che tu sia più emozionato tra virgolette che abbia una migliore esperienza quando la fai dal tier 1 a tier 2 che tu abbia un effettivo vantaggio ha senso sul feeling della persona non ha senso a livello di buff e nerf perché enny già a livello 1 era forte però è sotto gli altri è sotto gli altri a livello 1 e a livello 2 era già troppo forte quindi questo a me non piace questo secondo me è la cosa peggiore di tutto cioè il cambio ovviamente peggiore di tutta la patch secondo la mia opinione ovviamente perché doveva nerfare ancora di più adesso c'è quasi a pensare ehi mi conviene usare una zyra prima che ho enny 2 anche se hanno stranerfato zyra perché il danno è poco continua a darti una frontlane ma di solito quando vai a giocare enny ultimamente stai già giocando con frontlane abbastanza pesanti una mumu un tarik un nautilus uno yorik bah non penso vado a sbilanciare troppo però secondo me non è tanto giusto come adjustment poi poi sono sono scelte non sono d'accordo più che altro perché se consideri che non dico che enny mage sia oh mio dio p ma immagini enny mage con questo addosso due stelle che di colpo hai due tibers che hanno 350 di attack damage invece che 300 o 3, 4, 5 tibers o poi andremo a vedere perché twitch ability attack damage la ratio sale del 5% a livello 1 sale del 10% a livello 2 invariato a livello 3 placebo è fatto per ricordare alla gente che esiste twitch non si gioca nessuna comp se non nei poison ma anche lì proprio se non ti serve il mondo lo vai a mettere per magari attivare due per di ranger con ash se giochi non so magari predator giochi predator più ash per i crystal e poi vai a chiudere i poison con singed e twitch ma in ogni altro caso vai a preferire non dico una vein a twitch ma già preferisci un varus a twitch hanno paura che diventi troppo forte ma così non è cambiato nulla più che altro penso che sia sempre legato al c'è karma adesso nel gioco e quindi vogliono stanno andando proprio a passetti sui ranger perché dicono ok adesso c'è karma vediamo cosa succede ai ranger e poi vediamo come bilanciare il tutto siamo arrivati alle leggendarie con amumu che è sempre stata un'introduzione che è sì molto figo allo stesso tempo penso porca troia è sempre stato veramente fucking insane esatto durata dello stun che scende di mezzo secondo a rank 1 e aumenta 5 secondi a 3 stelle quando mai troverai amumu a 3 stelle lo sa soltanto il cielo però ci sta ogni leggendaria tier 4 l'hanno fatta per essere OP riesci a farla vieni premiato complimenti hai fatto una leggendaria sono 5 per 9 gold quindi 45 45 sì vabbè la mia matematica però cambia poco di nuovo sembra anche con nami dopo andremo a vedere sembrano buoni nerf ma nell'effettivo cambiano davvero poco sono 50 danni ma alla fine non vai a giocarlo per i danni sono 1 e mezzo ci sono mezzo secondi in meno lo vai a giocare per lo stun ma alla fine è solo mezzo secondo su una leggendaria tier 1 rimane forte fosse stato di un secondo a rank 1 e due secondi a rank 2 e dici ok adesso devi farlo a rank 2 per avere lo stesso impatto così è tipo eh quello che cambia di più è lo starting mana quello sì quello è molto importante perché lo starting è total mana sale da 50 125 a 75 150 che dici ok la prima attivazione della ulti è uguale a prima si attiva con la stessa tempistica ma recuperarlo per la seconda ulti è molto più difficile di prima il un po' di insight qui quello che hanno detto è che champion come a momo o come il vecchio pantheon vorrebbero farli per esempio 475 su 500 mana cosa vuol dire ulta subito la prima volta e poi non ulta più ok perché non possono fare questa cosa perché esiste la shojin proprio loro hanno detto che probabilmente vorranno andare a reworkare o rimuovere la shojin perché rompe completamente il concept dei champion stessa cosa per come sono fatti i tank se a momo gli buildi una dragon claw cioè perché come ha fatto il guadagno di mana in relazione ai tank lui ulta troppo spesso quindi hanno voluto avrebbero forse dovuto aumentare anche il mana massimo però si sono voluti tenere appunto sul vago vediamo cosa succede poi al massimo andiamo a cambiare va bene poi vediamo il danno bonus dell'abilità di mastery che sale da 575 500 a 75 100 500 quindi mastery torna un pochino in auge perché adesso basta già il rank 1 e hai lo stesso danno precedente del rank 2 esatto vogliono potenziarla hanno paura a potenziarlo troppo per esempio il fatto che esatto va fasciato e poi diventa troppo forte in una patch si torna alla level 8 thrash prima di chiudere il 2 vince invece così è bilanciato ci sta non male per chiudere con nami che il danno dell'abilità scende di 50 danni ad ogni singolo rank non quello che fa un'enorme differenza considerato che si ok può impattare su più personaggi quindi 50 danni poi dipendentemente dal numero di personaggi che colpisci possono essere 100 150 200 però non è questo lo scopo di nami non è fare danni esatto le puoi anche mettere paradossalmente un danno ad ogni livello e i suoi due lavori li fa bene uno buildandola full ap continua a dare buff a tutti gli alleati il motivo per cui giochi nami è l'onit che dà a tutti gli alleati e le dai comunque morello morello esattamente come senna con i buff on it come funziona nami da 10 per esempio 10 danni in più su ogni auto attack di un champion di conseguenza quei 10 danni in più sono considerati danni che fa nami quindi se tu dai un morello a nami quei 10 danni applicano il morello stessa cosa senna quindi alla fine il suo lavoro le puoi anche mettere un danno ma con il morello con una shojin che continua a oltare fare cc ad aria continua a riflessare i buff il problema di nami è proprio l'ultimo il danno quindi si è un nerf perché vogliono tenerlo un minimo sotto controllo ma allo stesso tempo non cambia niente il lavoro di prima lo fa uguale 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 esattamente quindi si è semplicemente per tenerlo un attimo sotto controllo comunque è un pezzo d'alta priorità in molte comp tra quelle che vuoi magari prendere un mistico a 2 o in generale per tenerti il buff degli ocean a 4 comunque nami la sua importanza ce l'ha e non è bassa bug fix andiamo a concludere con i bug fix sono due importanti comunque a livello di gameplay unità non targettabili non possono essere più impattate dai crowd control cosa vuol dire piantine di zara anche qua dice crowd control ma non è solo crowd control piantine di zara hai karma che si lega a un alleato e poi quando quell'alleato muore scelta un'unità random perfetto va a scegliere una piantina di zara hai senna che usa l'abilità sul tuo alleato più lontano e buffa tutti quelli che colpisce perfetto può andare a prendere le piantine di nami mal fight deve scegliere un personaggio a caso hai tutto il team sulla sinistra una piantina sulla destra può andare su nami per continuare a dire nami scusate zara quindi c'è da pensare tipo davvero adesso tu pensi e dici ok devo giocare senna cioè prima devo giocare senna la metto zara che magari mi cambia tutto e mi fa casini quindi questo è un bel buff che c'è un bel bug fix che è davvero game changing in molte molte comp e poi subito sotto fixato un bug su nami che poteva cominciare a ottenere mana dopo aver evocato due tibers dopo che uno è morto sì quattro patch che lo fixano quattro patch che continuano a non fixarlo speriamo che sia la volta buona si spera si spera ma alla fine lo sappiamo i bug tornano sempre io sono convinto che col set 3 almeno considerato che il gioco sarà sviluppato appositamente per cellulare tablet eccetera 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 la programmazione sia diversa di base e che per quanto possa condividere qualcosa con l'engine di league of legend dovrebbe cambiare non poco ora con il fatto che sarà sviluppato appositamente per per cellulare tablet considerato che puoi giocare cross platform non è non sono divisi tra di loro e quindi sai che secondo me addirittura lo tolgono dal client di lol e lo mettono proprio sai che puoi scegliere il gioco quando ci sarà leggendo volutare secondo me lo mettono team fight tactics tra virgolette a sé nel senso che semplicemente ti apre una versione del client di lol dedicato a team fight tactics e basta ma io ho sempre sperato questa cosa anche proprio a livello di concept così la gente che gioca a team fight tactics sembra solo gente che sta giocando a league of legends una modalità alternativa invece tft è un gioco a parte non c'entra niente tra virgolette con league of legends la tematica legata league of legends è un autobattler di league of legends ma per il resto non è una modalità alternativa quindi ci sta vedremo lo scopriremo tanto oggi o domani dovrebbero mettere il video in cui annunciano tutte le novità dell'anno e quello che sanno le cose su cui lavoreranno non vedo l'ora non vedo l'ora cazzo che dire signori e signori il video si conclude qua ringrazio ancora una volta Zai che si è unito a noi a supportarci in questa analisi fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto il video e fateci sapere se lo volete un po' più lungo perché comunque possiamo parlare ancora a sproposito veramente tanto sul rilanciamento del gioco oppure se lo volete un attimo più compatto anche se noi sappiamo che voi fanatici di TFT vi piace sapere tutto e quindi questo primo test lo facciamo a lungo lungo bella ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti